King King, a broadcastare le peripezie del buon indisposto. Indisposto sarà il nostro splendido, splendido dicevamo, il personaggio. C'è così, tanto che cazzo se ne frega. Allora, un po' che... Beh, insomma. Va bene, basta così. Va bene. Dovremmo esserci. Il tutto è buono. Ah, ho già cominciato goblinaciamente con la mia voce da goblin. La lascio. La lascio perchè stasera mi sento goblinaceo. Goblinaceo totale. Va bene, basta con questa musica, mi sono rotto i coglioni. Enter World. World. Enter World. Entriamo nel World di World of Warcraft e vediamo di dare una piccola scaldatina al volume di Bob. perchè mi sembra un po' eccellente. Mi sembra eccellente. Anche se la mia voce forse sovrasta il musicame di Bob. la musicaiolità del mio World of Warcraft. World of Warcraft. Grande Yoko. È dal 2005 che lo faccio. Sono ben 11 anni. Ormai è parte del mio mondo. se mi tolgono World of Warcraft. Mi spacco il dare danno a tutti. Allora. VAMOS. Come si dice di solito in questi casi. VAMOS. Cominciando. Dunque, il mio indisposto. Uomo a tutto d'un pezzo. Parco due. Cominciamo subito bene. Cominciamo goblinaceamente male. Pure la tastiera che non è americana. Ok. Dai, vediamo di... di non farci sorprendere come un tonno di campagne. dai, indisposto. Hai cominciato veramente male. Hai cominciato veramente male, caro il mio indisposto. Andiamo verso nuove... nuove... quest. Propongo nuove quest. Guarda. Non mi avventuro in... nuove avventure. le nuove quest. Vanno bene. Le nuove quest possono avere il loro motivo. Ecco, diciamo così. Allora, andiamo giù. Un po' tontolosamente. Tontolosamente. Allora, facciamo qua. Ah. Ah, ma qui siamo in bocca al nemico, ragazzi di campagne. vediamo di non farci sorprendere come dei... Beduini. Un altro... Gromcar, eccetera, eccetera. Dai, vieni qua. Bel marturotto. Bel marturotto. Bel marturotto. Dai, un bel... justice. Ah, ma aspetta però. Ignorante. se non ho nessun blessing. Seal of justice. Seal of justice mi dà il blessing del... Ah, no, no, no. Ehm... Ho detto una cazzata. Una cazzata. Ho detto una cazzata. Allora, ho detto una cazzata perché... il seal non ha nulla a che vedere con il bless, il blessing. Ma il paladino ha i vari seal, seal of truth, seal of righteousness, seal of justice, and seal of insight. Tutte cose molto altopompose, no? Tutte molto altopompose. Quindi il sigillo della verità, la truth. Sigillo della giustezza, della giustizia. Sigillo della giustizia. Rightous vuol dire uomo giusto. Sì, quindi giustizia. Seal of insight. Il sigillo del... Come dire, di forza interiore. Fears with only light. Increasing healing time by 5% of healing. Questo qui va bene per healing. Questo invece va bene per... Cosimely additional and reduce the movement speed. Questo in pratica è un crowd control. Seal of justice è un crowd control. Questo è tipicamente invece... Damage di AOE. Damage to all target within 80 yards. Il primo invece è un additionaly manager per censure to the target. Anche questo è un crowd control. Per fare censure to the target. Non so cosa la censura vediamo. Censure che cosa? Dill 129... Ok, qui dice... Ah no. Fa un damage per time questo. A me piace questo. Seal of justice. Fuse you with only light. Causing many attacks to deal. Eccetera eccetera. Togliamo la voce da goblin che adesso... Non è il caso di Goblin Henry. Perché non mi va più la... Testierona. Continuo per la voce da goblin. Per Dio. Ma per la madonnina perché? Marocca vacca. Non ho più il key mappings sulla voce da goblin. Dunque un attimo. Set. Contesto. Ok. Se faccio così... Oh... Torna la mia voce. Se faccio così... Torna... Goblinaceamente. No... Goblinesca voce. Goblinesca voce. Non Goblinesca voce. Rimaniamo in non Goblinesca voce che in questo momento devo... Affrontare le cose più... Queste imbecile. Questo duri dei ghiota. Chi è che è arrivato a disturbare... La mia... Santità di paladino? Il paladino santo. Qui mi sa che devo sbombettare di nuovo. Di andare nel mio... No. Non c'entro un cazzo. Anzi mi sono equipato una roba che è una merda. Dunque un po'. 5.47. 4.83. Minchi c'è una bella differenza. C'è una bella differenza. Ok. Ho tolto questa schifezza da 4.83. Andiamo avanti. Dunque dicevamo... Che... Cos'è che devo fare qua? Cosa dice questo? Engineer Track Slane. Ah. Eccolo qua. Devo sleinare questo imbecile. E' la mia busta. Ti devo dare una scaldatina... Sulla groppa mio caro. Devo renderti la vita... Meno piacevole diciamo così. Ecco. Un bel... Execution Sentence. Un martellone talento formidabile... Del Paladinski. Sì. Perché mi ero dimenticato di dire nel precedente... Perché dovrei andare su questo shredder famelico? Mi ero dimenticato di dire nel precedente video... Che... Ehm... Quel martellone lì chiaramente è un talento. Non è di default dei paladini. E' un talento. Cosa devo fare con questo idiota? Oh Christ. Assum burla giù dello shredder. Allora... E cosa devo fare adesso? Vabbè dai. Intanto andiamo a far... Tagliare questa pianticella. Ah non posso. Ci vuole Lambert Meal 3. Va bene. Alcal intelligentum dal peones. Va bene. No. Stavo dicendo che... Ehm... Il Seal of... Quello che ho in realtà in questo momento. Che è il Seal of Justice. Il Seal of Justice. Quindi... Sigillo della giustizia. Il paladino è giusto. Il sigillo della giustizia. E' quello che mi... Ehm... Piace di più. Mi piace di più perché... Ehm... E' un crowd control. Find 20 manual page on orcs. Va bene dai. Quegli intelligentoni che ci sono in Talador. Allora. La zona è questa. Ehm... Ah eccoli la. Belli giallognoli. Che spuntano. C'è già uno che mi ruba... Le possibilità di quest. Shredderone intelligentone. Intelligentum. Ecco qui. Uno è andato. Tosse malefica. Che mi sta distruggendo. Ti sta bene rompi i coglioni. Che mi sta distruggendo. Ti sta bene rompi i coglioni. Credo io. Però il cretino dell'ostia lì. Se ne è into. Ma provo i miei splendidi... Poteri Aoi... Paladineschi. ... Ostia che musica struggente che c'è qua. Sembra un film di... Clark Gable. Allora torniamo... La mia coglina c'è a voce. La 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 coglina c'è a voce. Allora 5 di 6 Ne manca 1 Andiamo un po' più veloce Speed of light Orcheggiamo Disintegriamo l'orco Se ci diamo una mossa Magari è meglio Tastiera americana Ecco bravo Bravo Marturo Allora le pagine sono 5 5 di 20 5 di 20 Vieni vieni orchetto Che ti scaldo le uova Lasciamoli perdere Ah un altro esclamativo Yallagnolo Chi è questo qui? Am Se non lo sai tu Resto posto Am Erlum From Playmaster Bralock 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 Ti faremo fuori Oh adesso disturbo un po' la quiete di questi orchetti Propongo sempre il mio scenosissimo Non dico ormai il nome Non dico ormai il nome Esecution sentence Talento eccellente Eccellente talento Quando è possibile vado di execution sentence E' troppo scemmentoso Bravo il mio indiz posto Il mio indiz posto Il mio indiz posto E' un bravo cerfo Stugnamolo De un guardare come dorme Fa dormiente Molto bene Molto bene Un altro po' il vessillo Vessillo regis brodeunt inferni Di nuovo Execution sentence Dunque prima di ricordarmi che l'execution sentence si chiama execution sentence Penso che ci vorranno quel circa 3 o 4 mesi Data la mia svegliezza naturale La mia memoria breve Molto vacillante Questa è data l'età ormai arrocchiana Ormai arrocchiaica Arrocchiaica età Cos'è che devo fare qua? Allora shredder operation manual Va bene I manuali